È una situazione di fronte di fronte di fronte di fronte di fronte, perché è un po' più刺激. Voglio fare il bateo, perché ho avuto amici. E anche sono sicura di amici come faccio il volo. Io amo la vela, perché stai con gli amici, ti diverti e fai il bagno. La vela, perché stai con gli amici. Io amo la vela. Io amo la vela.